Ciao a tutti, io sono Ryan, meglio conosciuto come Chio e benvenuti ad un nuovo video di Art Chio. Oggi disegnerò l'ultimo componente della crew dei mates, ovvero Vegas. Incominciamo a disegnare. 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 Ok ragazzi, spero che il disegno vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace e condividete il video. Vi lascio sulle schede info il sondaggio che potete scegliere il prossimo youtuber che volete che venga disegnato nel prossimo video. Vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e Twitter. E come ultima cosa, vi chiedo di iscrivervi. Ciao!